Nell'ambito dell'azione di contrasto al consumo e allo spaccio di sostanze stupefacenti che vede quotidianamente impegnati gli uffici operativi della questura di Siracusa e dei commissariati della provincia, gli agenti del commissariato di Augusta, a seguito di attente indagini di polizia giudiziaria, hanno denunciato un giovane di 20 anni per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze psicotrope. Nello specifico gli investigatori hanno sorpreso il ventenne nei pressi della sua abitazione in possesso di una dose di marijuana e dopo averla sequestrata, sospettando un'attività di spaccio, hanno effettuato a casa del denunciato una perquisizione domiciliare che ha consentito ai poliziotti di rinvenire e sequestrare 15 dosi già confezionate e pronte per lo spaccio di sostanze psicotrope, 44 compresse di altre sostanze e un bilancino di precisione. L'assunzione di tali psicofarmaci, se effettuata contemporaneamente all'utilizzo di alcolici, può provocare danni irreversibili al sistema nervoso centrale.